Due locali chiusi, quattro denunce, una foglio di vie ed un rimpatrio. E' questo il bilancio dell'ultimo fine settimana a Saione, quartiere alle porte del centro storico Aretino e da tempo teatro di episodi di microcriminalità e degrado adesso al centro di un progetto di riqualificazione. I uomini della squadra volanti della questura di Arezzo assieme al reparto mobile di Firenze hanno settacciato l'intero quartiere sotto la lente di ingrandimento ai parchi della zona. I controlli sono infatti iniziati dai giardinetti di Campo di Marte dove i poliziotti hanno verificato la regolarità sul territorio nazionale dei cittadini stranieri presenti. Successivamente è stato passato al vaglio il parco del Colle del Pionta. Qui sono stati fermati tre cittadini extracomunitari non in regola con le norme sul permesso di soggiorno. Per loro è scattata la denuncia. I uomini delle volanti hanno inoltre identificato un cittadino tunisino già gravato da numerosi precedenti e provvedimento di espulsione. L'uomo è stato rimpatriato. L'attenzione degli agenti si è poi concentrata sui locali gestiti da persone di nazionalità straniere. In due di questi sono state riscontrate regolarità amministrative e sanitarie. È stata così disposta la chiusura temporanea dell'attività in attesa dei relativi adeguamenti. Sono state infine denunciate due persone per manifeste ebrezza alcolica in luogo pubblico. I due, dopo aver bevuto un po' troppo, stavano infatti importunando gestore e clienti del locale in cui si trovavano. Uno di loro, già gravato da numerosi precedenti di polizia e residente in provincia di Torino, è stato sottoposto al provvedimento di foglio di via obbligatorio.